Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con speciale Elezioni che inizia un nuovo ciclo di trasmissioni su Rete 8, sono le nostre tribune elettorali, quelle realizzate sotto la vigilanza del Correcom Abruzzo e destinate alla comunicazione politica dei candidati per le prossime regionali in Abruzzo che si svolgeranno il prossimo 10 febbraio. Iniziano oggi le nostre tribune in una data atipica per il nostro palinsesto che è quella del giovedì, anzi ringraziamo il collega Paolo Castignani che ci ha ceduto questo spazio solitamente destinato alla trasmissione Pronto Medicina Facile ma è uno spazio che abbiamo aggiunto per cercare di comprimere anche nel nostro palinsesto i tanti impegni che abbiamo di comunicazione politica proprio in vista delle elezioni in un tempo così ristretto insomma la particolarità di questa campagna elettorale. E oggi iniziamo appunto con gli incontri con i candidati nelle liste, poi avremo già da domani il primo confronto tra i candidati presidenti per la giunta regionale d'Abruzzo. Liste appunto che avranno una trasmissione oggi straordinariamente di giovedì ma che a partire da lunedì prossimo incontreremo appunto ogni lunedì alle ore 20 e 30 qui su Rete8. Le prime quattro liste che partecipano alla nostra tribuna sono quelle di azione politica Partito Democratico, Fratelli d'Italia e avanti Abruzzo. Ci sono quattro candidati nei nostri studi sono tutti della circoscrizione di Chieti, poi nelle prossime trasmissioni avremo anche candidati delle altre tre circoscrizioni provinciali in modo che rappresenteremo al termine di questa tornata di tribuna e un po' tutto il mondo delle quattro province abruzzesi e la proposta elettorale anche sui territori oltre che naturalmente sugli schieramenti. Allora io intanto ringrazio e saluto ciascuno di loro si presenteranno già nel primo giro di risposte perché vogliamo andare subito sulle presentazioni intanto per la mia prima domanda che comporterà ma il meccanismo ormai vi è noto una risposta al massimo di tre minuti e poi suonerà il nostro campanello di avvertimento, sono queste le regole della par condicio che applichiamo anche in questa circostanza. Allora la prima lista sorteggiata è quella di azione politica, io ringrazio Giorgio Di Clemente buonasera Di Clemente, lei è un candidato di questa lista civica che sostiene il candidato presidente Marco Marsilio e la coalizione in qualche modo di centrodestra, una componente civica che è partita da lontano in qualche modo per questa sfida elettorale con la regia di Zelli che è stato un po' l'ispiratore di questo progetto. Ecco, qual è il ruolo, le chiedo subito, della lista, della sua candidatura proprio in quanto valore aggiunto di una coalizione più politica come quella del centrodestra di Clemente? Sì, buonasera a tutti, buonasera a tutti i nostri cari abruzzesi la componente azione politica è una componente che non è nata da oggi ma ha già un suo piccolo ma importante passato la scelta di azione politica è una scelta per dare un valore aggiunto a quello che sarà una gestione, un governo regionale e dove sia un Abruzzo sarà, secondo me, una delle primarie forze che può dare e darà senz'altro un buon contributo. Le mie origini politiche mi hanno avvicinato a questo movimento, a questo partito perché ho ritrovato in loro le mie tradizioni, le mie idee, i miei valori di centrodestra e in Gianluca Zelli, promotore e ideatore e oggi direttore di questa lista ho trovato veramente un amico, un fratello che con lui e insieme a tutta la squadra possiamo veramente dare un contributo positivo speriamo di farcela e ci auguriamo che questo sia un bene per l'Abruzzo Bene, grazie, sintetico magari, se poi in altri turni sarà un po' più lungo le faremo qualche aggiunta di secondi che ha risparmiato nella prima risposta Silvio Polucci, Partito Democratico, capolista in provincia di Chieti del PD che, insomma, nello spirito di questa coalizione che è nata dopo l'accettazione della candidatura da parte di Giovanni Legnini una coalizione, diciamo, in qualche modo si è detto attrazione civica ma con un apporto dei partiti che hanno poi in qualche modo concordato sui punti principali della candidatura di Legnini diciamo, il PD è stato in qualche modo ben disposto anche a fare un passo indietro rispetto a un ruolo diverso in questa campagna elettorale quale sarà il significato della vostra presenza in campagna elettorale? Ma intanto buonasera a tutti gli elettori e gli ascoltatori come diceva anche nella domanda, in realtà è una coalizione molto più ampia che ha una radice politica ma molto più ampia di quella radice stessa all'interno di quella connotazione politica fatta di più partiti il PD gioca un ruolo chiaramente di rilievo ma è un ruolo diverso anche da quello del passato il baricentro si è spostato di più ovviamente sulle liste che hanno composto la coalizione e che soprattutto hanno chiesto dal basso a un candidato molto autorevole a mio avviso il più autorevole degli abruzzesi e non per decisione nostra la collaborazione che Giovanni Legnini ha avuto rivestendo le più alte cariche dello Stato l'ultima quella in collaborazione con il Presidente della Repubblica ma in precedenza anche nel ruolo di governo sulla finanziaria e anche quando è stata l'opposizione essendo il relatore per l'opposizione della stessa finanziaria dei governi del centro-destra a mio avviso ecco quella richiesta che veniva dal basso è stata raccolta non solo dal candidato Presidente appunto Giovanni Legnini ma anche dal Partito Democratico che ha fatto tra virgolette un passo non dico di lato ma assolutamente di condivisione di un progetto nel quale il baricentro politico fosse in qualche modo un pochino diverso e d'altra parte io penso che sia stato corretto a partire dal progetto che presenterà Giovanni Legnini fino ad arrivare alla condivisione di un patto della coalizione di tutte le liste che la richiesta e l'appello avanzato dai 162 sindaci abruzzesi fosse raccolta nei temi e per le criticità che ancora oggi attanagliano la nostra regione e dunque una scelta, una richiesta, una proposta che viene dal basso e permettetemi di dire che non ha dovuto attendere una cena attendendo che a sua volta un ministro rientrasse una volta da Israele o una volta da Atene per la partita di una squadra per cui lui tifa in attesa che scegliessero a Roma in coda a delle scene in cui si parlavano di diritti televisivi, di Mediaset e di Rai quale fosse il candidato per l'Abruzzo che non è un abruzzese ecco perché io ritengo che il Partito Democratico non poteva che sposare in un contesto politico simile una richiesta, una proposta, una concertazione, un progetto che venisse dal basso e non fosse al contrario deciso in alcune stanze romane grazie, Antonio Tavani, Fratelli d'Italia invece vuoi esprimere perché è un esponente, un senatore del suo partito credo è il primo presidente italiano che farebbe capo di una regione che farebbe capo al movimento della Meloni che ha in Abruzzo ottenuto già un significativo risultato vincendo con il suo esponente al Comune dell'Aquila ecco c'è invece questa forte trazione politica in qualche modo della candidatura ottenuta in Abruzzo per Fratelli d'Italia che spinge sostanzialmente anche un po' voi candidati della lista di Fratelli d'Italia Tavani Grazie dell'invito, buonasera a tutti e in bocca al lupo ai miei colleghi candidati e spero una campagna sui problemi e sulle soluzioni mi presento brevemente, io sono insieme a Ethersi Gismondi e pochi altri uno dei fondatori di Fratelli d'Italia in provincia di Chieta in Abruzzo lo rivendico in questa occasione esattamente per rispondere anche all'amico Assessore Paolucci con il quale ho condiviso peraltro 5 anni in provincia, lui sui banchi della maggioranza io sui banchi dell'opposizione fino al 2009 gli voglio dire che questa rivendicazione politica noi la sentiamo molto forte noi non abbiamo bisogno di mascherare, mistificare, migliorare tentando di nascondere la nostra compagine tentando di nascondere che quello che lui stesso ammette cioè il grave ritardo in cui l'Abruzzo versa e le gravi mancanze che l'amministrazione di centro-sinistra uscente ha regalato all'Abruzzo non abbiamo bisogno di nasconderci noi siamo indiscutibilmente a destra di questa coalizione di centro-destra che vuole essere invece l'opposizione a un tentativo della sinistra e del PD di nascondersi dietro a una serie di liste civiche ecco io non credo che l'amministrazione del PD di Silvio Paolucci, dei suoi colleghi Assessori dei suoi colleghi di maggioranza non abbia avuto il tempo necessario per dare le risposte ai problemi degli abruzzesi in tutti i settori che forse poi affronteremo nel secondo giro di domande e credo che l'aver chiamato l'autorevole l'autorevole e chi lo mette in dubbio il loro candidato presidente vorrei ricordare agli abruzzesi, agli elettori che insomma se noi stiamo aspettando una condivisione con gli alleati non solo con le forze politiche ma anche con le forze civiche che ci stanno sostenendo forse qualcuno stava aspettando che si decidessero altri incarichi prestigiosi, istituzionali a livello romano per poi tornare in Abruzzo vedete di facile e veloce che è stato un claim della giunta ad Alfonso che insomma voglio ricordare è la giunta a cui appartiene il PD l'amico Paolucci in Abruzzo c'è stata solamente la fuga di Luciano D'Alfonso e voglio dire agli elettori che il 17 gennaio invece di stare alla festa delle Farchi a farafide rompetri stanno a fare o ascoltare noi che facciamo campagna elettorale si vota in Abruzzo il 10 febbraio evento devo dire eccezionale perché ci sono voluti quasi dieci mesi per far capire alla giunta regionale al presidente facente funzioni lolli e poi alla maggioranza di centro-sinistra che probabilmente il momento migliore per votare sarebbe stato ottobre anche per rispetto di quegli elettori per rispetto di chi invece è fuggito a Roma abbandonando le responsabilità e anche non riuscendo a difendere le sue scelte politiche ecco io credo che invece la scelta di Marco Marsilio che ha origini abruzzesi e sfido ognuno di voi ad andare a Roma e non trovare un garaggista un tassista un benzinaio un ristoratore un tecnico un impiegato un medico di origini abruzzesi beh credo che fare la campagna sulle origini e sulla carta identità di Marco Marsilio sia partire come dire fare una falsa partenza per il centro-sinistra Walter Palumbo lista avanti Abruzzo che è una di quelle appunto che hanno una forte connotazione civica anche con qualche esponente politico al loro interno come avviene in molte liste civiche in questa competizione elettorale sostiene la candidatura di Giovanni Legnini ecco intanto la lista come è composta come nasce la spinta a aver in qualche modo risposto a questo appello alla condivisione di un progetto che è quello che c'è nella candidatura di Legnini per voi buonasera ai telespettatori grazie per l'invito e la lista avanti Abruzzo è una lista laboratorio un laboratorio in cui sono confluite delle idee che sono ancora tuttora presenti nel panorama nazionale e sono le idee liberali le idee socialiste le idee diciamo del civismo in toto della solidarietà ma sono tutte idee che sono state così immesse in questo contenitore un contenitore che ha raccolto la sfida e ha identificato nel candidato presidente Giovanni Legnini colui il quale può dare ascolto che è la cosa più importante ascolto a quelle che sono le esigenze che vengono dalla società civile abruzzese su quelle che possono essere diciamo le soluzioni a tutti quei problemi che attanagliano questa regione ma non solo questa regione la nostra nazione e quindi sul campo dell'occupazione sul campo della tutela dell'ambiente sul campo ovviamente della tutela della salute sono temi sui quali noi abbiamo trovato nel confronto con il candidato presidente Giovanni Legnini una soluzione l'attenzione riservata alle proposte che la lista avanti Abruzzo ha posto nel suo programma che è ovviamente parte del patto programmatico che il candidato presidente Legnini ha accettato sono queste e sono quindi una rappresentanza civica che vuole dare il suo contributo io provengo ovviamente dal mondo sanitario e ho accettato volentieri questa sfida questo confronto portando quelle che sono le esperienze del campo lavorativo a cui ho dedicato i miei 40 anni di servizio bene Palumbo lei ha accennato al tema della sanità in qualche modo lei è stato anche ed è in questa fase probabilmente ora in una fase diciamo di autosospensione elettorale coordinatore dell'intersindacale medica d'Abruzzo abbiamo qui l'assessore alla sanità insomma penso che la sanità debba essere un tema al centro della prossima domanda in qualche modo Giorgio Di Clemente vive in un territorio di confine il vice sindaco di San Giovanni Teatino una realtà di cui si è spesso parlata anche con possibile sede di un ospedale di questo famoso ospedale di secondo livello dell'area metropolitana in qualche modo ora sulle scelte relative alla ospedalità in qualche modo di un'area metropolitana molto complessa qual è il suo punto di vista personale ma anche della lista azione politica rispetto alle scelte che ora la regione può tornare a compiere avendo superato la fase di difficoltà di uscita dal dissesto di Clemente sì la sanità è un tasto veramente importante e delicato la novità diciamo che il suo tempo uscì sui testi giornalistici sui dibatti televisivi si parlava anche del famoso ospedale in San Giovanni di Atino non che la cosa mi dispiacerebbe o ci dispiacerebbe come territorio ma sinceramente io dico prima di aprire altri ospedali prima di aprire altre strutture prima di creare altri castelli pensiamo a conservare quello che abbiamo la sanità oggi purtroppo pecca di tanto guardiamo dal basso io proprio ieri mattina una cara concittadina è venuta in comune a lamentarsi con la lacra negli occhi su quello che ha trovato andando allo sportello sanitario del nostro comune doveva fare un'analisi un'analisi semplice un'analisi dell'urina per un controllo diciamo di routine di cui tutti hanno bisogno sentirsi dire che solo di ticket doveva pagare dovuto pagare 10 euro quando un'analisi l'assessore potrà confermarlo che è più preparato di me per quanto riguarda i prezzi sanitari almeno me lo auguro senza altro sì quando un'analisi costa circa 3 euro 3 euro e 50 quindi io dico parto dal basso per arrivare all'alto se questa è la sanità abruzzese veramente dico che non va non va bisognerebbe migliorarlo così come bisognerebbe creare infrastrutture migliori lasciando quelle che ci sono ma ambiliandoli e dando loro più assistenza più modo di tutelare i cittadini oggi oltre agli ospedali purtroppo chiusi che questo mette in difficoltà tanti centri nostri montani e non ma parliamo principalmente di centri montani che oggi per avere il diritto alla salute che è un diritto che veramente è il punto numero uno della vita il punto numero uno dell'essere umano a volte deve rischiare lo stesso cioè per cercare di salvarsi deve fare i chilometri molte volte in condizioni non agevoli sia per la viabilità di cui dopo senz'altro parliamo e sia per le distanze che giustamente può provocare il famoso infarto o quant'altro di negativo anziché avere con un semplice passaggio di pochi chilometri la possibilità di essere salvati ma a parte la chiusura degli ospedali io dico anche i distretti sanitari locali scusate se faccio l'esempio di San Giovanni Tietino ma parlo di esso perché lo vivo quotidianamente ma so che la stessa realtà esiste in tanti altri territori locali e regionali oggi bisognerebbe potenziare o meglio bisogna potenziare i sportelli sanitari in San Giovanni Tietino abbiamo uno sportello che ieri era funzionante oggi dispiace dirlo o si migliora o si chiude cioè inutile avere diciamo una struttura che non funziona una struttura dove è impossibile avere quella risposta positiva che il cittadino chiede quindi io dico i servizi occorrono i servizi sulla salute sono servizi indispensabili non possiamo privare i cittadini di questa cosa essenziale quindi chiudere gli ospedali è stata una una grossa grossa mancanza alcuni ospedali dicevo non rafforzare questi cendri altrettanto lavorare su un discorso di ticket che molte volte 10 euro serve per i pani più che per la semplice analisi o per la medicina che molte volte è un salvavita quindi io dico una sanità diversa una sanità che possa dare tranquillità che possa dare veramente vita e non avvicinare agli infarti o a altri pericoli la persona stessa il cittadino stesso bene Paolucci abbiamo messo un po' di carne al fuoco ci sono alcuni temi su cui ovviamente sul piano operativo lei è stato insomma come si dice al caldo per cinque anni con insomma un clima piuttosto rovente una situazione che immaginiamo non semplice ma su cui insomma ci sono anche temi nazionali tra cui questo del ticket ecco da dove cominciare non saprei nemmeno io perché la sanità ovviamente sarà un tema centrale di queste campagne elettorali probabilmente ci vorrà anche un altro giro di risposte iniziamo probabilmente proprio dal discorso degli ospedali allora cominciamo dalle due argomentazioni che ha toccato di più Giorgio Di Clemente il primo la chiusura dei piccoli ospedali qui si sono fatti cinque anni di false informazioni volute volutamente false informazioni per aggredirmi personalmente Casoli Guardiagri Leggisti Pescino e Tagliagozzo furono chiusi con decreto del dicembre 2010 quattro anni e mezzo prima che io mi candidassi poiché persero il ricorso al TAR la loro giunta di destra dovette utilizzare una norma nazionale il decreto Tremonti che poi fu convertito in legge per legiferare e rendere norma dello Stato nel 2013 la chiusura che loro due anni e mezzo prima avevano avanzato e poi prodotto per quelle cinque realtà poiché io sono stato il volto più lungo della storia della sanità abruzzese perché ricordiamo tutta la vicenda abruzzese sulla sanità è molto più triste di quella che raccontiamo oggi dipendenti sotto l'assessorato che protestavano pazienti legati a Villapini situazioni imbarazzanti con commissioni di inchiesta nazionali enormi inappropriatezze assessori che con l'aggiunta pace cambiavano una volta l'anno successive questioni giudiziarie che tutti ricordano allora essendo stato il volto più lungo della storia della sanità mi attribuiscono anche i provvedimenti di cinque anni prima che io mi candidassi non che mi insediassi quindi la verità intanto è che io non ho trovato da parte né di Salvini né di Di Maio nessuna norma a livello una statale che cambiasse la norma dello Stato che ha chiuso quei cinque ospedali questa è la verità e io prego tutti i colleghi che si candidano al Consiglio regionale poiché saranno legislatori di studiarsi le carte e di proporre a Roma la modifica della norma nazionale che ha cancellato quei cinque ospedali e non di parlarne in Abruzzo solo per prendere voti e poi non risolvere assolutamente nulla perché se non si cambia quella norma nazionale su questi cinque ospedali non si risolverà assolutamente nulla anzi noi abbiamo incrementato l'offerta in ciascuno di essi sia a Guardia Grele con l'ospedale di comunità e l'UCCP sia a Casoli con la RADA la RSA e l'ospedale di comunità sia per quanto riguarda Gissi con l'ospedale di comunità super ticket noi abbiamo proposto una delibera di giunta regionale del maggio insieme a un accordo di tutti i sindacati Salvini e Di Maio ce l'hanno bocciata il MEF ci ha bocciato la cancellazione delle 10 euro ci avevano promesso al tavolo nazionale che l'avrebbero poi loro cancellata con il trasferimento statale durante la finanziaria l'unico trasferimento che abbiamo è del governo Renzi della Lorenzin di 1 milione e 200 mila euro per cancellare tutte e 10 gli euro ci servono 11 milioni di euro gli 11 milioni furono promessi durante la interlocuzione regione Abruzzo MEF perché noi avevamo cancellato con la delibera di giunta regionale con 4 milioni a seconda delle ISEE per le fasce più povere i 10 euro e ce l'avevano bocciato è arrivata la Grillo durante la finanziaria e ha detto non ci sono i soldi per cancellare il super ticket questo per stare alle verità sui due temi toccati per quanto invece riguarda la sanità abruzzese intanto voglio diciamo dire alcune cose poi casomai ci torniamo perché la sanità diciamo è un tema molto più lungo dei tre minuti che ci sono concessi per ciascuna domanda la prima non io ma il governo Salvini di Maio ha decretato che questa regione sui livelli essenziali di assistenza è la settima in Italia io la presi che era la 14esima su 16 oggi sono state valutate tutte e 21 le regioni ma cosa sono i livelli essenziali di assistenza perché altrimenti il cittadino non capisce prevenzione oncologica quando sono arrivato io sul tumore al colon la prevenzione era solo 4% ogni 100 persone che doveva farlo solo 4 lo facevano oggi è molto più alta le ambulanze il collega Tavani sa benissimo che a Lama dei Pelini Torricella dei Pelini il raddoppio a Lanciano il raddoppio a Vasto Torre Bruna Carucchio Castiglione Villa Santa Maria sono state riempite di ambulanze qui perché è finito il tempo e anche perché mi ha dato proprio l'assist per far intervenire Tavani che ovviamente riguardiamo Fratelli d'Italia non fa parte del governo giallo-verde in qualche modo è una posizione di opposizione quindi non so se poi è così interessato a replicare alle situazioni nazionali ma ovviamente promettendo a tutti e poi comunque faremo un secondo giro di risposta sulla sanità che è un tema molto importante vorrei chiedergli proprio dal suo punto di vista che è quello di un centro dell'entroterra della provincia di Chieti da sindaco come ha vissuto questo rapporto con il servizio sanitario regionale in questi anni ovviamente anche è un periodo più ampio nel quale appunto Paolo Ucci dice che è stato in qualche modo coinvolto ovviamente sì grazie dell'assist e dell'assist e io la mia battaglia sulla sanità in difesa dei territori viene da lontano perché nel 2007 2008 quando io ero sindaco di Fara San Martino sono stato per dieci anni insieme a tanti altri colleghi sul fronte e quando dico colleghi sindaci non parlo solo di sindaci di centrodestra attenzione perché un sindaco di un paese piccolo come la stragrande maggioranza dei paesi abruzzesi deve avere la capacità e spesso ha la capacità di svestirsi della propria casacca politica quando c'è da spendersi per il territorio e credo che in quell'occasione quindi parlo di dieci anni fa noi come dire stimolammo una grande protesta su come la politica regionale stava trattando i territori però voglio ricordare a Silvio con il quale mi mi lega una profonda condivisione calcistica e forse solo questa che i problemi giuridici sulla sanità i politici abruzzesi li hanno avuti prima del 2009 prima della giunta Chiodi cioè quelli che amministravano la regione Abruzzo con Ottaviano del Turco come hai parlato di problemi giuridici potrebbe sembrare ecco a me sembra che la giunta Chiodi a livello personale politico sia uscita in maniera brillantissima dalle come dire considerazioni che sono state mosse soprattutto su quei livelli di appropriatezza a cui tu prima ti riferivi quindi tu sai che il rapporto tra il pubblico e il privato nella sanità è sempre stato un rapporto molto delicato e molto sbilanciato e Abruzzo costituisce un'eccezione nazionale in questo però i problemi della sanità sono rimasti quelli del 2007 e 2008 perché nei territori dove la regione Abruzzo manda l'ambulanza se non la medicalizza qui c'è un medico quell'ambulanza rischia di fornire lo stesso servizio che nel 1991 quando una persona a me cara ebbe un infarto la dovevamo accompagnare ormai già deceduto in ospedale con un mezzo privato quindi se non mi medicalizzi il 118 e quindi non mi dai delle risposte sull'emergenza urgenza è ovvio che sulla sanità nei territori non hai fatto un buon servizio poi alcune cose sono state fatte gli ospedali di comunità o di territorio vengono dalla giunta Chiodi e sono state continuate perpetrate dalla giunta d'Alfonso però sul Mona liste di attesa TAC 2020 mobilità passiva tra le più alte in Abruzzo capacità di fare diagnosi negli ospedali abruzzesi chi ha la capacità la forza i soldi per spostarsi perché poi si fa sempre a carico del servizio sanitario nazionale ma si fa a carico del bilancio abruzzese Silvio Palucci mi insegna che le spese sanitarie occupano oltre l'80% del bilancio abruzzese non si può adesso dire che mancano 11 milioni per togliere un ticket c'è un problema di territorio c'è un problema di liste d'attesa c'è un problema di mobilità e c'è un problema di ospedali e chiudo e di continue promesse di nuove edificazioni ecco sono d'accordo con Giorgio Di Clemente quando dice facciamo funzionare quello che c'è c'è un decreto Lorenzin che potrebbe permettere avrebbe potuto permettere a Silvio di attivare l'ospedale di aree disagiate a Guardia Grele ieri allora Walter Palumbo sfogliandosi come abbiamo premesso prima dalla veste sindacale in qualche modo perché è guida l'intersindacale medica ma anche esponente della FIMG la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale quindi in questa fase soltanto politica in qualche modo delle cose che si sono accennate nei precedenti interventi avrà accolto sicuramente qualche spunto di rilievo ovviamente sicuramente tolta la divisa di sindacalista medico sicuramente e qui si parla ovviamente di quelle che possono essere le scelte politiche le scelte politiche sono le evidenze e le diciamo così le osservazioni che sono state apposte sul problema ospedale diciamo i ticket e sul territorio noi ospedale noi siamo in una nazione che oltre ad avere i problemi economici che ha ha dovuto a suo tempo subire da parte dell'Europa una imposizione di riduzione della spesa della sanità che significa che ha dovuto fare dettagli nella sanità che hanno per esempio portato alla riduzione dei posti letto primo problema in Italia ci si ricovera e ci sono tre posti letto per mille abitanti ovviamente in altre nazioni d'Europa sono più alti diciamo le percentuali in Francia il 7 per mille e in Germania l'8 per mille a tutto questo va aggiunto il problema del default che la regione Abruzzo ha avuto nel periodo 2008 2009 e siamo entrati in commissariamento quindi abbiamo dovuto fare i conti con problematiche con debiti che erano all'ordine del giorno avevano indicato come regione canaglia quindi sommando il problema nazionale sommando il problema regionale ovviamente si è dovuto razionalizzare la spesa ospedaliera che è poi ovviamente stata legittimata dal decreto Lorenzin che ha stabilito che ci devono essere ospedali che non possono essere tutti quanti uguali e che quindi ci siano ospedali di base ospedali di primo livello e in qualche caso anche ospedali di secondo livello perché è necessario che questa regione si doti di ospedali di secondo livello sugli atti di programmazione se ne pervedono due uno per l'area Chieti-Pescara uno per l'Aquila-Teramo e ci si dia anche la possibilità di darci delle aziende ospedaliere universitarie che sono state bloccate questa è la regione unica regione d'Italia che non ha un'azienda ospedaliere universitaria quindi dobbiamo fare questo ci dobbiamo dare ultra specializzazioni a questa regione ma gli altri programmatori ci sono ci vuole un po' di coraggio per risolvere queste questioni sul problema ticket è un problema nazionale se a livello nazionale non si decide di togliere questo super ticket e ci vogliono risorse io mi auguro sono certo che sicuramente questo governo attuale possa mettere mano perché veramente è drammatico per molte famiglie subire questo diciamo questo ticket che porta purtroppo spesso a dover ricorrere al pagamento per evitare ecco quello che aveva detto il diciamo il candidato di azione politica che si paghi più ticket che il contenuto dell'esame territorio sul territorio c'è molto da fare c'è molto da fare per esempio si potrebbe questa è una proposta che è stata messa nel nostro programma si potrebbe per esempio dare più forza agli ospedali di comunità ma anche fare degli ospedali di cure intermedie dove ospedali che siano a carico del territorio e non siano a carico della spesa per l'assistenza ospedaliera allora ci torniamo tra poco subito dopo la pubblicità facciamo la prima interruzione chiudiamo il discorso sulla sanità con la prossima domanda e poi andiamo sugli altri temi principali ma come ricordava giustamente anche Tavani la sanità è ormai l'ottanta per cento del bilancio di questa regione quindi parliamo di un tema molto molto rilevante e credo anche molto interessante per i nostri telespettatori e tra poco bene riprendiamo sul tema rispetto al quale avevamo lasciato dei discorsi in sospeso ma che è molto rilevante dicevamo con Giorgio Di Clemente candidato di azione politica parlavamo di sanità e proprio nell'ultima parte della risposta del candidato che l'ha preceduto il tema era stato spostato sulla sanità sul territorio abbiamo parlato finora di ospedali ma penso probabilmente che la sfida e questa è la sfida che vi lancio anche a voi nel rispondere alla mia domanda di questa nuova legislatura in cui la regione riassume totalmente la governance delle scelte per la sanità che dopo aver parlato tanto di ospedali è definito una volta l'assetto degli ospedali si capisca e si colga come priorità la seconda fase cioè quella di stare vicini ai cittadini laddove soffrono laddove hanno difficoltà laddove hanno necessità di cure in qualche modo non garantite dal sistema ospedaliero che riguarda gli acuti ecco la sanità sul territorio su questo quali sono gli impegni delle liste che competono in questa campagna elettorale iniziamo da Di Clemente in primis per quanto riguarda la sanità io dico e propongo così come azione politica la prima cosa è quello di creare un punto unico più certo come garanzia di risposta e di tranquillità per i cittadini cioè un punto unico di prenotazione perché oggi prenotare un esame vuol dire mettersi al telefono fare le varie telefonate cercare di trovare un CUP un punto di riferimento dove è possibile inserirsi e molte volte ci sentiamo a rispondere perché per un'analisi per una visita specialistica per un'attac qualsiasi cosa che possa salvare la vita umana bisogna aspettare mesi purtroppo addirittura anche anni quindi cercare di creare un punto unico e di poter dare automaticamente più diciamo una risposta più immediata e speriamo più breve per quanto riguarda queste visite queste necessità poi il discorso ospedale sì giustamente come dicevo prima aprirne altri se sono indispensabili sì in alcuni punti potrebbero anche esserli ma non chiudiamo quelli che sono oggi i salvavita in alcune zone perché le zone periferiche devono essere ampliate come servizi non ridotte tocchiamo un altro punto delicato ne parlavo anche tempo fa con il collega assessore Paolucci il discorso sanità pediatrico oggi abbiamo una programmazione diciamo che parte da lontano così come lui mi diceva ma che noi regionali dobbiamo in qualche modo far avvicinare il problema e spingere l'alto a fare in modo che questa cosa diventi una tranquillità e non una penalità mi riferisco al sistema pediatrico spiegandomi meglio oggi io guardo i miei territori ma in tutti i territori regionali è la stessa cosa oggi c'è la necessità di ridare il servizio di ieri o migliorarlo non peggiorarlo cioè con la riduzione oggi di quelli che sono i medici pediatrici con l'impossibilità poi mi corregge se sbaglio con l'impossibilità oggi di poter dare una copertura completa di assistenza medica per i cittadini del territorio stesso esce fuori il discorso dell'ambito cioè in San Giovanni Tiatino scusate se faccio l'esempio di San Giovanni Tiatino ma ripeto so per sentito dire per aver toccato per aver qualcuno valutato anche in altri territori c'è la stessa problematica se un cittadino un neonato oggi ha bisogno di assistenza e il pediatra oggi in servizio non ha più la sua capienza deve obbligatoriamente in base alla legge in base a quello che mi ha risposto il collega Paolucci qualche tempo fa deve recarsi dovrà recarsi presso altri centri dell'ambito stesso cioè Torrevecchia Francavilla Ripatiatina e quant'altro paese limitrofi questo credo sia una cosa veramente assurda una cosa che va a pregiudicare va ad aggravare la posizione del neonato e della famiglia stessa ok abbiamo toccato altre cose ma giustamente diciamo abbiamo toccato il tasto della bibliotria è una che comunque è rilevante Paolucci allora dicevamo l'Abruzzo risolte i suoi non indifferenti problemi economici riprende la governance della sua sanità il prossimo consiglio regionale sarà pienamente diciamo in qualche modo libero di fare le prossime scelte per la sanità probabilmente il lavoro grosso resta quello sul piano sulla fase 2 vale a dire sul piano della piena integrazione di quei servizi che stanno un po' a cavallo tra il sociale e il sanitario perché in qualche modo assistere una persona anziana a casa sua mettere su una rete che eviti l'ospedalizzazione di molte persone che soffrono e lasciarle nel loro contesto in qualche modo ma assistite davvero è la vera sfida su cui si gioca il futuro di una regione che anche dal punto di vista anagrafico l'Abruzzo ha una fascia di popolazione sofferente alla quale bisogna rivolgere assolutamente credo prioritarie attenzioni come farete voi una piccola parte per precisare alcune cose perché altrimenti l'ospedale di Guardia Grele è stato riconvertito con legge dello Stato non esiste una legge regionale che può superare una legge dello Stato per questo sto cercando di dire che al di là delle promesse poi se non c'è un emendamento a livello normativo statale alla Camera dei Deputati o al Senato non si riaprirà mai lasciate perdere le chiacchiere perché è stato normato quel decreto di Chiodi con un emendamento che poi fu fatto proprio da Tremonti e quindi divenne legge dello Stato secondo la legge sui super ticket prevede un finanziamento se tu togli 4 milioni li devi rimettere ecco perché ce l'hanno voluto bocciare promettendoci che l'avrebbero messo loro questi soldi ora è vero che io non devo parlare del Governo nazionale ma Salvini rappresenterà l'80% del peso della coalizione del centro-destra che andrà al Governo e in questo Governo loro hanno Salvini e Di Maio scritto che il decreto Lorenzini che in realtà viene da Balduzzi loro ne scrivono sul DEF noi prevediamo la piena attuazione cioè abbiamo fatto molte più deroghe noi a quei decreti che quanto hanno scritto loro sul DEF lo sto dicendo solo per verità cioè anche per consentire a tutti i miei colleghi di un colore oppure di un altro di sì fare le battaglie ma anche di precisare i binari dove farle perché altrimenti si fanno gli slogan ma non si faranno i fatti e vedrete che sarà così quanto invece al futuro della sanità intanto io ho avuto uno splendido rapporto con l'ex Presidente Chiodi ed è stato vicendevole io penso che in quella legislatura commissariata quindi non c'era un assessore della sanità ha fatto un pezzo di lavoro rispetto soprattutto alle questioni contabili perché la situazione abruzzese versava in una condizione di debito molto significativa io ho fatto un altro pezzo di strada e l'ho fatto sui livelli essenziali di assistenza che se ne dica e questo è un fatto non è che c'è qualcuno che può dire il contrario prima c'erano più tali cesari c'era meno prevenzione oncologica meno vaccini meno interventi sui femori che producevano centinaia circa 300 di vittime anziane in più all'anno oggi si deve fare altro perché questi obiettivi sono stati traguardati tra cui la medicina del territorio anche la questione dei tempi d'attesa che è un problema nazionale non abruzzese io penso che molti colleghi miei non conoscano per esempio che i processi al CUP in questa regione sono 1.400.000 e il problema non sta mai sulle urgenze sulle brevi sta sui programmati e sui differiti quindi c'è un altro grande tema ed è un tema nazionale lì non è un tema della regione Abruzzo poi fanno notizia i mille casi su 1.400.000 ripeto 1.400.000 o i 10.000 casi però bisognerebbe anche leggerla con molti meno toni urlati o soltanto per accaparrarsi un consenso in più cercando di sprigionare l'aggettivo in questo caso purtroppo sottolineato marcato di più perché si fa così oggi in politica per affrontare i problemi la medicina del territorio è il vero fronte qualcosa l'11 febbraio si troverà il nuovo governo regionale tecnoassistenza e telemedicina avviata se uno oggi va a caso ha il teleconsulto che arriva direttamente al pronto soccorso di Lanciano o quello a seconda dei casi abbiamo i defibrillatori consegnati che fanno il tracciato e li inviano al pronto soccorso abbiamo imbastito una legge regionale e le linee guida per l'accreditamento delle cure domiciliari la quarta regione d'Italia sono tutti temi che vanno sviluppati stiamo chiudendo a fine gennaio con le farmacie dopo la DPC un altro servizio per tutte le aree interne anche la distribuzione del farmaco presso le abitazioni senza tutta quella burocrazia che ad esempio il collega Palumbo credo conosca molto bene è chiaro che questi sono gli obiettivi ma perché un pezzo di strada è stata fatta prima e anche dopo per chiudere anche sulla sanità io credo che nessuno sta urlando e nessuno di noi perlomeno parlo dei presenti si sta muovendo per slogan degli slogan siamo rimasti vittime ma sono tutte quelle del governo Renzi e di chi oggi dice che mandando i soldi a casa risolve i problemi degli italiani attenzione perché qui stiamo ragionando sui fatti allora la lettura remota del dato di Casoli purtroppo è parziale caro Assessore Paolucci perché quel dato assunto a Casoli non viene letto in un back office che deve essere ancora organizzato quindi non diciamo anche qui mi permetto di dire in esattezze per confermare la bontà del proprio lavoro convincere gli elettori che quello che non si è fatto nei cinque anni precedenti si possa fare nei cinque anni successivi i problemi della sanità sono quelli che riguardano i cittadini utenti ieri mi ha chiamato un mio amico medico col quale ho condiviso le scuole elementari a Chieti quindi parliamo di 50 anni fa 45 anni fa e mi ha detto il senatore Legnini chiama tutti i medici io vorrei che lui chiamasse i pazienti vorrei che facesse un giro dove oggi sta invece girando il presidente della commissione vigilanza regionale con Marco Marsiglio cioè nell'ospedale di Chieti per vedere la chirurgia toracica dell'ospedale clinicizzato di Chieti non del reparto di medicina chiuso di Casoli piuttosto di Tagliacozzo dove i ricoverati sono nei corridoi ma parliamo di chirurgia toracica non di un femore rotto o di una frattura dell'ulna insomma se ti dico delle inesattezze il dottore mi correggerà tecniche ovviamente è ovvio io sono il primo a sapere che la sanità abruzzese nei territori non torna indietro però qua dobbiamo anche metterci d'accordo per chi vuole andare a governare questa regione noi non siamo la regione Emilia Romagna o Lombardia cioè noi abbiamo poche aree metropolitane anzi abbiamo una sola aree metropolitana e poi tantissimo territorio disseminato tra valli monti fiumi e dissesti idrogeologici allora se non facciamo il ragionamento completo cioè se non la smettiamo di pensare alla sanità come un fatto a sé stante anche se prende tanto del bilancio regionale e cominciamo a dire che è un sistema di strade civili aiuta anche l'assessore della sanità a fare il suo lavoro non facciamo un buon lavoro per quello che stiamo promettendo agli abruzzesi mi spiego se i tempi di percorrenza da Palena a Lanciano rimangono questi anzi sono peggiorati negli ultimi vent'anni grazie a dissesti grazie alle frane grazie alle strade chiuse grazie alle strade che sono state chiuse quattro anni fa e che non interessano nessuno perché riguardano magari abbracciano 10.000 abitanti equivalenti allora se non usciamo dalla logica di voler amministrare l'Abruzzo esclusivamente in base ai numeri facciamo un cattivo servizio quelle liste di attesa aumentano quella mobilità aumentano e il comfort alberghiero negli ospedali è di terzo livello purtroppo con questo si confrontano gli utenti anche i medici anche il personale sanitario ma soprattutto gli utenti perché poi il medico è paziente quando ha un problema l'infermiere è un paziente un malato quando ha un problema adesso appunto su questo volevo sentire appunto anche qui mi dà un assist per Walter Palumbo la sanità dei medici è diversa da quella che vedono i pazienti in qualche modo oppure si vive un po' tutti insomma più o meno le stesse cose perché ripeto anche le vostre candidature di molti esponenti del mondo appunto della sanità che sono presenti in questa e in quell'altra coalizione deve essere una candidatura che rappresenti anche soprattutto gli interessi delle persone che curate ogni giorno e allora questi punti di vista in un consiglio regionale che per la prima volta ripeto si riappropria delle proprie scelte ci sarà davvero? Beh certamente sì i medici sia in questa lista che anche in altre liste si sono candidati per portare all'attenzione dei cittadini e brussesi la necessità di fare punto e ripartire da quello che si è ottenuto ecco l'assessore Balucci prima ha detto che in questa regione ha ottenuto 202 punti lea e siamo la settima regione in Italia è importante aver raggiunto questo obiettivo quando noi eravamo partiti con 145 punti lea e il minimo sono 160 punti lea siamo a buon punto siamo fra le sette regioni d'Italia per quegli risultati della prevenzione per tanti altri risultati che ha citato è inutile ripeterlo da lì dobbiamo partire il territorio ha necessità di ovviamente di essere riorganizzato i medici del territorio sono disponibili a poter affrontare e dare una mano a quelle che possono essere le problematiche che gli ospedali in questo momento soffrono il sovraffollamento dei reparti che sono ovviamente dovuti anche a quel problema che ho citato prima del blocco dei posti letto a 3 per 1000 quindi bisogna riconvertire molto sul territorio ho detto prima di poter oltre gli ospedali di comunità che il collega Tavani ha detto bisogna fare anche ospedali di cura intermedia ospedali che servano per quelle che sono le riacotizzazioni della cronicità che non sono ospedali che la cui gestione è a carico della spesa dell'ospedale con la O maiuscola ma sono ospedali del territorio che possono risolvere le problematiche che ci sono e che sono risolvibili nell'immediato per le liste d'attesa il problema delle liste d'attesa è legato al fabbisogno di personale che purtroppo è deficitario noi se a livello nazionale non ci si pone il problema che bisogna diciamo investire sul personale che è deficitario perché bisogna tener conto che esistono anche norme europee che impongono il riposo agli operatori per cui non si possono fare molte straordinarie e quindi c'è necessità di rivedere le piante organiche bisogna rivedere chi può dare qualcosa e ci sarà ovviamente questo è stato promesso e noi ci auguriamo che la promessa di investimento sul personale possa portare sicuramente a un abbattimento delle liste d'attesa abbattimento però che è anche legato ad una attenzione sia del cittadino ma anche del medico che è il medico che ovviamente deve saper gestire problematiche risolvibili nell'immediato sul territorio piuttosto che magari ospedalizzare bene mi sembra anche uno spunto che in qualche modo può chiudere questa ampia pagina che abbiamo giustamente riservato al tema della sanità però c'è un argomento e noi lo abbiamo inquadrato affidando circa un mese prima che iniziassero le elezioni la campagna elettorale a Demopolis che è il primo anche rispetto alla sanità nel cuore degli abruzzesi il lavoro cioè noi abbiamo fatto un sondaggio abbiamo scelto lavoro, sanità e problema della viabilità che circa un mese fa era soprattutto quello di cui ci occupavamo noi giornalisti quale secondo voi scegliendone uno il più importante il 50% degli abruzzesi ha detto il lavoro Di Clemente lei è un amministratore riceve molti cittadini quotidianamente le chiedo se anche dal suo osservatorio è questa la sensazione che si ha parlando con la gente anche in questi giorni di campagna elettorale e soprattutto la regione che cosa può fare nell'ambito delle sue competenze che poi sono del tutto particolari e non esclusive su questo argomento per migliorare la situazione occupazionale dell'Abruzzo Sì parliamo di un argomento molto delicato il lavoro giustamente è la cosa primaria senza il lavoro la famiglia muore muore perché non ha la possibilità di poter essere sostenuta noi come azione politica cosa diciamo diciamo quello che è una realtà cioè quello di cercare di creare più possibilità di lavoro oggi non esiste più il posto di lavoro sicuro il posto di lavoro oggi è diventato veramente un qualcosa di indispensabile ma che bisogna cercare creare e dare possibilità noi amministratori ai cittadini che vogliono avere il lavoro o le opportunità presso le varie aziende che speriamo riescono diciamo ritornare come ieri nel nostro territorio perché tanti purtroppo stanno fuggendo e questo è qualcosa che mi fa male e ci fa male noi tutti perché oggi vedere le fabbriche chiudere è veramente una grossa delusione ma oltre a questo io dico il lavoro dovremmo crearlo anche sfruttando ciò che sono le nostre risorse noi abbiamo un territorio veramente che è invidiato da tutti io sfido chiunque nel territorio diciamo europeo o potremmo dire anche mondiale che diciamo stando su un paio di sci riesce a guardare il mare o viceversa dal mare riesce a guardare la montagna per me la prima cosa da sfruttare è salvaguardare e ampliare e cercare di trovare un modo per sviluppare al massimo il turismo nel nostro territorio un turismo che può essere sviluppato in mille modi parliamo da quello che può essere il discorso gastronomico c'è quello di far assaporare diciamo a tutti al 90% della popolazione a mio avviso europea che non conosce le nostre specialità parliamo del tartufo della fosa patata di Avezzano parliamo dello Zafferano parliamo di tante piccole ma importanti realtà così come diciamo tutto quello che è oggi il nostro mondo reale culturale il mondo reale ecclesiastico cioè noi abbiamo veramente tanti punti da visitare tanti punti da in qualche modo rendere vivibili e rendere migliori come raggiungimento e poi l'ambiente l'ambiente che giustamente va salvaguardato è reso automaticamente abbinato abbinabile a quello che è il discorso turismo perché se noi non curiamo un ambiente se noi non curiamo quello che è il nostro modo di vivere il nostro modo di essere non possiamo dare quello che il turista si aspetta io parlo da un punto di vista logistico sempre nel mio territorio oggi abbiamo un aeroporto che potrebbe dare molto di più un aeroporto che potrebbe dare veramente il massimo invece da il minimo io vedo spesso o meglio quotidianamente l'arrivo di aerei purtroppo semi vuoti a differenza questi stessi aerei per le tante località di villeggiatura che partono pieni io vorrei il contrario vorrei appunto un turismo diverso un turismo di arrivo non di partenza e questo noi dobbiamo cercare di offrirlo e creandolo dando l'opportunità ai visitatori di venire da noi e questo automaticamente andrà a creare dei posti di lavoro così come un'agricoltura diversa così come una pesca diversa mi soffermo un attimo sulla pesca dove ci tengo a fare una precisazione la pesca può sembrare una risorsa minima ma invece una risorsa anch'essa massima noi eravamo una delle regioni con più natanti parlo di pescherecci da lavoro a parte poi il di porto parliamo di lavoro di natanti dove veramente c'era da vivere per tante persone con cittadini oggi quella pesca si è ridotta si è ridotta ad un 60% ma questo perché partiamo anche dall'alto io non dico che la colpa è solo della regione Abruzzo la colpa è anche del ministero che in qualche modo non ha oggi salvaguardato l'Italia verso l'Europa e automaticamente la regione Abruzzo non è stato capace non ha salvaguardato questo settore verso Roma o verso l'Europa cioè tutto quanto uno scaricabarile che in qualche modo ha portato oggi una pesca ridotta all'astrico e questo veramente è un qualcosa di cui potrei parlare per mezz'ora ma dico salviamo le pesche salviamo l'agricoltura diamo possibilità ai turisti di venire in Italia e poi in Italia in questo caso in Abruzzo e poi vedremo un Abruzzo rilanciato ecco Paolucci certo assieme a quello di puntare sul turismo sulle strategie diciamo in qualche modo di diffusione di queste attività del terzario però insomma la regione ha dei compiti oltre che in materia di difesa di posti di lavoro un ruolo che sta svolgendo in particolare anche nel Chietino per realtà che hanno vissuto e stanno vivendo crisi industriali molto 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 rilevanti un ruolo nelle politiche attive del lavoro ecco da questo punto di vista quali sono le cose reali che il Consiglio regionale può fare per in qualche modo guardare ai giovani che sono quelli ai quali i genitori che magari hanno risposto proprio al nostro sondaggio nutrono le maggiori preoccupazioni perché oggi trovare il lavoro in Abruzzo a 25, 30, 40 anni è davvero dura ma intanto in qualche modo il fatto che emerge da un po' tutti gli strumenti di rilevazione è che il lavoro e subito dopo la viabilità sono i due grandi temi principali che sentono come proprio in questa regione gli abruzzesi e subito dopo credo venga la questione della sanità o un po' dopo il che mi fa dire che evidentemente alcune criticità sono state affrontate altre emergono di più però diciamoci una cosa con molta franchezza sul tema del lavoro gli strumenti della regione ci sono ma chiaramente prevalgono quelli nazionali perché altrimenti anche in questo caso noi descriviamo e immaginiamo un futuro ma io non vorrei perché troppo spesso avviene di suscitare o che suscitiamo attese che poi possono essere lette o vissute come tradite la regione ha alcune competenze altre sono state addirittura assegnate anche sul lato delle politiche del lavoro la riforma per esempio dei centri per l'impiego alcune competenze che nell'ultimo mese e nell'ultimo anno sono state chiaramente aggiunte all'istituto e all'ente regionale il primo tema però è quello che era contenuto nella domanda non c'è soltanto non ci sono soltanto le politiche passive del lavoro io voglio ringraziare il lavoro del presidente Lolli perché non addetta mia ma addetta di tutti gli operatori e di tutti i portatori di interesse a partire da quelle delle maestranze delle rappresentanze sindacali è stato un grande lavoro molto complicato che a volte ha dato anche importanti risultati altre volte in caso di delocalizzazioni molto significative no ma certamente è stato costante e presente io penso che dal lato delle politiche attive il primo tema o i primi temi siano questi uno la lotta con tutti gli strumenti possibili ci sono alle delocalizzazioni per la quota parte regionale due il sostegno a qualsiasi tipo di iniziative e attività e voglio dire anche in questo caso la differenza tra le proposte nostre e anche quelle del governo che oggi vedo all'opera di sostenere la trasformazione a tempo indeterminato dei nostri posti di lavoro che non è il lavoro che ha fatto il decreto dignità perché se tu leggi la politica del lavoro come sanzionatoria il risultato che hai è il licenziamento non è l'assunzione ma piuttosto il sostegno da questo punto di vista anche con le politiche di bilancio io ritengo che sia prevalente poiché le risorse sono scarse il costante finanziamento dei fondi europei è un vincolo che l'intera diciamo corpo politico deve porsi anche per la prossima legislatura questi sono i due e dopo di che evidentemente devi proporre un'idea e un'immagine della tua regione una proposta di sviluppo della tua regione io penso che su questo per esempio il candidato Marsilio fa qualche scivolone ho letto proprio ieri o l'altro ieri se non ricordo esattamente il momento nel quale mi pare che la posizione sia stata e oggi lo ha ribadito anche Salvini per quanto ci riguardi Pozziammarra a una certa distanza ok la storia della regione Abruzzo per chi la conosce è una storia di no rispetto a questo tipo di proposta a questo modello di sviluppo ma è una proposta che invece va salvaguardiamo il nostro territorio proponiamo con un'economia sostenibile il nostro ambiente i nostri prodotti e investiamo sul nostro turismo su questo allora io sono convinto ma su questo Antonio Tavanni mi darà proprio dalla sua esperienza anche di sindaco una mano che il discorso del lavoro è anche legato in questa fase in cui per esempio la bollo va via da un territorio come quello che lei conosce molto bene di San Martino della Marruccina al tema dei servizi che un territorio nel suo complesso offre la competitività del territorio ecco siamo ovviamente se vanno in Repubblica cieca gli operai li pagano di meno ma l'Abruzzo non può perdere quella che era stata la sua attrattività che ha permesso a queste aziende quando si insediarono di scegliere noi ecco su questo quali sono i punti su cui una campagna elettorale può dare delle risposte poi però reali in termini di appunto di proposte io vorrei come per la sanità vorrei utilizzare questi tre minuti anche i prossimi per parlare di lavoro perché mi sembra che è un tema siamo tutti d'accordo almeno su questo predominante che poi è un tema che insomma si intersega anche con tutti gli altri a Silvio per inciso ricordo che su Ombrina il cui promotore oggi si candida con Legnini il primo sì è arrivato dal governo centosinistra con il voto favorevole di Giovanni Legnini al di là delle dichiarazioni di Marco Marsilio per chiarezza nei confronti degli elettori che sarà il presidente di una squadra di consiglieri regionali convintamente come dire portatori dell'interesse della regione Abruzzo c'è un altro candidato presidente che ha dato il suo sì personale da deputato di questa repubblica e di una parte politica che ha dato il primo via a Ombrina poi ci ritroviamo Alessandro Lanci che è un amico altrettanto caro come tutti candidato con Legnini questo per chiudere anche la parentesi sui pozzi a mare volevo dividere la mia risposta in due tranche io vorrei parlare dei problemi perché se non facciamo la fotografia l'abruzzo di come ce lo lascia l'aggiunta di cui l'assessore Paolucci fa parte l'aggiunta d'Alfonso dell'uomo solo al comando facciamo un torto a chi domani l'11 febbraio si siede in consiglio regionale diceva bene prima l'assessore per legiferare quindi per fare delle politiche attive e non più delle politiche di rincorsa come quella che anche Lolli ha fatto per la bolle di San Martino sulla Marruccina allora il governo Chiodi ha licenziato la riforma degli accreditamenti degli enti di formazione 90 enti di formazione in Abruzzo lasciati per 5 anni senza bandi alcuni di questi enti che sono anche società che hanno posti di lavoro che pagano stipendi e salari hanno dovuto anche chiudere questa è la programmazione della politica attiva della regione Abruzzo sul credito i fondi 2014 2020 sul credito sono stati messi a bando l'altro ieri e l'altro ieri le categorie hanno firmato la proroga con il presidente Lolli quindi come si fa a parlare di politiche attive che la regione Abruzzo ha fatto negli ultimi 5 anni si è fatto di tutto per farle scappare le occasioni di lavoro l'Abruzzo è la regione che in Italia ha la peggiore performance di livello di disoccupazione in Italia la media nazionale è il 9 la regione ha il 12 nella regione Abruzzo sono più le partite IVA che chiudono di quelle che aprono la regione Abruzzo decresce nel 2015 nel 2016 nel 2017 nel 2018 cioè la giunta del PD di Alfonso e di Legnini ci regala oggi un Abruzzo più povero questo va detto per chiarezza poi ci sono le soluzioni e forse le indichiamo nella prossima risposta a proposito di soluzione ovviamente parleremo anche di questo perché come giustamente diceva Tavanni il lavoro si intreccia anche ad altri argomenti per cui vi lascerò più liberi anche nelle prossime risposte vista la tanta carne al fuoco Walter Palumbo Legnini anche in questi studi nella prima intervista che ci rilasciò disse nella prossima legislatura se io sarò presidente ogni legge ogni intervento ogni proposta dovrà contenere una colonnina a fianco che è quella del saldo dei posti di lavoro vorrei dire questa legge produce più posti di lavoro sì o no questo è un calcolo che andrà fatto preliminaramente ad ogni scelta ci spiega un attimo come appunto come funziona questo meccanismo in qualche modo il meccanismo che il candidato presidente Legnini ha posto all'attenzione dei cittadini abruzzesi è quanto meglio si possa ecco diciamo avere nel senso che si può se questa è la motivazione che noi abbiamo condiviso è che possiamo vedere la canteriabilità e quindi una volta fatto un atto un provvedimento questo provvedimento ovviamente deve essere seguito nel tempo e quindi può essere validato e posto sotto attenzione nella sua attuazione da tutti quindi è una evidenza una trasparenza oltre che una diciamo una condivisione che sicuramente ci sarà fra il presidente della giunta e coloro i quali con lui elaborano queste nuove proposte quindi la cantierabilità e il cronoprogramma saranno cose fondamentali per poter vagliare nel tempo e porre all'attenzione dei cittadini la più o meno diciamo soddisfazione di quello che si sta operando quindi maggiore trasparenza e maggiore diciamo disponibilità non potevamo aspettarci e anche la mia presenza nella lista di Avanti Abruzzo porta questo diciamo questo nuovo modo di approcciare le problematiche perché altrimenti non avrebbe diciamo avuto una così un'adesione di altre liste civiche come Avanti Abruzzo ha il suo programma e quindi a questo se ci si aggiunge poi il sostegno agli investimenti in Abruzzo una diciamo un ostacolo a quelle che possono essere delocalizzazioni il problema del terziario da incentivare e il problema poi dei fondi europei io penso che questo corollario di diciamo di propositi e di messa in opera nell'immediato quindi una scaletta che possa essere così condivisa dagli alleati della coalizione io penso che possa portare soluzioni a questa occupazione occupazione che per esempio io l'altro giorno ho seguito una lezione della professoressa Anna Morgande della facoltà di economia che ha posto l'attenzione su delle ricerche perché il problema è anche le ricerche in Abruzzo che manca quindi le università dovrebbero essere maggiormente per esempio coinvolte nella produzione di progettualità di ricerca che portino soluzioni sull'ambiente i ricicli di molto materiale che viene prodotto ebbè è stato veramente illuminante ciò che la professoressa Anna Morgande ha posto in un progetto che è rimasto accantonato ma che è un progetto che pone proprio evidente le soluzioni occupazionali e di rispetto dell'ambiente per poter portare a casa con successo questa novità che per esempio possono essere spese sul territorio abruzzese grazie grazie Palumbo noi ci fermiamo per l'ultima interruzione poi andiamo a rush finale continueremo a parlare di lavoro perché ovviamente è un tema trasversale a molti e quindi vi darò modo di proseguire su questo tema a tra poco siamo tornati in studio Giorgio Di Clemente riprendiamo il tema del lavoro ma visto appunto come stiamo inquadrandolo nel primo giro di interventi in una visione un po' più generale collegata alle necessità di questa regione che potrebbero dare lavoro a molti una delle necessità è proprio quella a cui hanno accennato anche gli altri candidati anche della manutenzione di un territorio che ha enormi problemi di dissesto idrogeologico ha problemi evidenti dal punto di vista ambientale ha problemi dal punto di vista della viabilità in qualche modo per far nascere e poi sostenere anche in Abruzzo un'occupazione probabilmente anche in qualche modo la resilienza la salvaguardia di quello che c'è può essere una priorità da inquadrare per chi vuole governare questa regione vale a dire sfruttiamo più la salvaguardia di quello che abbiamo per creare occupazione nuova oggi parliamo di lavoro parliamo di territorio parliamo di viabilità parliamo di tutto ciò che può essere la salvezza del territorio e automaticamente anche la salvaguardia del posto di lavoro se noi non curiamo il territorio se non diamo la possibilità al territorio stesso di essere raggiunto con breve tempo e non con diciamo il famoso tocchi e fuggi da un tratto all'altro di strada o molte volte essere interrotti per poter proseguire il proprio percorso automaticamente si vanno a ridurre anche le possibilità di lavoro ma perché questo paragone giustamente il posto di lavoro deve essere raggiunto il più breve tempo possibile deve essere raggiunto con la tranquillità per poi poter lavorare quindi la viabilità è indispensabile e la viabilità stessa porterà dei posti di lavoro perché benvenga una strada con un appalto in corso che già automaticamente porta lavoro la viabilità dà possibilità di raggiungere posti oggi come dicevo prima nel precedente intervista bello da vedere c'è il mare e montagna ma è difficile da raggiungere per l'impossibilità di percorrere certe strade oggi dissestate strade abbandonate strade chiuse da tempo che invece dovrebbero essere con priorità aperte per rendere ripeto una sicurezza in più per il territorio la viabilità è primaria ma l'ambiente non è da meno quindi un ambiente diverso un ambiente più sano un ambiente che possa dare quella produttività perché recuperando l'ambiente si va automaticamente a creare anche altre opportunità il lavoro è indispensabile dicevo prima quindi noi dobbiamo fare in modo di aumentare sì le infrastrutture aumentare quello che è il mondo diciamo operativo operaio in genere ma se non abbiamo le cose primarie cioè un ambiente sano una viabilità sana una conoscenza completa del territorio per quanto riguarda il discorso idrogeologico cioè che non sappiamo dove viviamo questo su tutte cose che in qualche modo blocca e va a non facilitare la possibilità di creare posti di lavoro perché se noi sappiamo dove stiamo se sappiamo dove viviamo possiamo dire vogliamo produrre vogliamo crescere prima parlavo del turismo parlavo così in generale di quelle che sono le fabbriche chiuse che invece dovremmo aprire parlavo della pesca parlavo di tanti di tante possibilità che noi oggi possiamo avere purtroppo si parla molto ma dopo non si riesce a concludere questo perché molte volte la forza della regione Abruzzo la forza di noi oggi diciamo in basso di fronte a una realtà romana non riusciamo a trasportare non riusciamo a dare voce forte voce capace per essere ascoltati perché giustamente il collega e i colleghi diranno per fare tutto questo ci sono bisogno di fondi i fondi dobbiamo essere in grado e in gamba nel poterli chiedere nel chiederle e poi nello spenderle perché se noi abbiamo molte volte le risorse ma non le spendiamo non possiamo lamentarci che nel territorio mancano le infrastrutture se non siamo in grado di sfruttarle e su questo vorrei toccare il tasto dell'agricoltura che poi purtroppo per mancanza di tempo ne parliamo dopo perché è molto importante parlare anche di questo Paolucci come coniugare il lavoro con la sostenibilità che deve essere probabilmente una bandiera condivisa da tutti sul futuro di questa regione si faceva riferimento alle situazioni petrolifere ma anche diciamo alle difficoltà che può vivere questo territorio perché è esposto purtroppo a situazioni di dissesto idrogeologico di attacco da parte insomma delle forze della natura con i cambiamenti climatici in una regione così variegata come la nostra alla nostra resilienza in qualche modo ecco questa idea di sostenibilità si può coniugare con quella dell'occupazione del lavoro allora intanto però una precisazione non sono veri i numeri che sono stati detti prima cinque anni di recessione in Abruzzo io lo dico perché purtroppo buttata così sembrano assolutamente no sembrerebbe sembrano non verificati in realtà invece lo dico di nuovo ai miei colleghi l'Abruzzo è una regione fortemente internazionalizzata quanto al suo tessuto industriale e manufatturiero pertanto risente moltissimo delle politiche nazionali cioè l'Abruzzo è una di quelle regioni che vive più del resto del paese delle cosiddette economie delle situazioni congiunturali dell'economia va da sé che questo governo Salvini di Maio sta facendo davvero male dal punto di vista del prodotto interno lordo e l'Abruzzo ne risente maggiormente perché soprattutto tra l'altro in provincia di Chieti ha un tessuto fortemente internazionalizzato intanto salvaguardarlo e io penso che ad esempio l'idea che questo governo regionale ha risolto dopo 50 anni sulla Fondo Valle Sangro sia uno degli elementi che favorisce lo stazionamento almeno la salvaguardia di un certo tessuto produttivo molto 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 rilevante e vado oltre ovviamente qualche anno fa a noi ci dissero che le risorse legate al masterplan non sarebbero poi mai pervenute in realtà nell'arco di un settegno di spesa ci sono delle risorse importanti per la nostra regione possono essere riviste possono essere rimodulate noi abbiamo avuto un'idea si possono trarre da quelle risorse idee per salvaguardare il nostro tessuto produttivo il tema della mobilità e della viabilità c'è il tema della viabilità delle strade provinciali e comunali che è un grande tema c'è il tema della mobilità perché prima si parlava di aeroporti e di altro anche su altri temi ebbene questo è stato il primo governo regionale che pur non avendone funzione e competenza perché è l'unica delle competenze che certamente non è in capo alla regione quella della viabilità ANAS province e comuni ha messo a disposizione delle risorse che nelle prossime settimane e mesi verranno spese dalle quattro province parliamo ovviamente di circa 60 milioni di euro io penso che il fabbisogno sia di 500 è chiaro che non siamo vicini rispetto al fabbisogno però è pur vero che è un tema nazionale questo governo delle tante promesse quante risorse ha messo Salvini e Di Maio a disposizione delle province per affrontare il gravissimo tema delle strade provinciali in questa perché se ci si vuole attribuire pur all'aggiunta regionale uscente il tema della viabilità che non è un tema di competenza della regione pur avendo forzato sul master plan e avendoci inserito 60 milioni mi pare una segerazione davvero da campagna elettorale altri grandi temi riguardano chiaramente la sostenibilità e la salvaguardia e l'idea che hai della tua regione l'idea che si ha diffusamente tra l'altro non soltanto nel centro-sinistra ma della comunità degli abruzzesi è un'idea che intende investire intanto sul nostro territorio e quindi anche il settore primario lo sviluppo il turismo ci sono ulteriori temi che riguardano la possibilità di favorire il nostro tessuto imprenditoriale il credito si citava prima anche qui è stata fatta una sorta di campagna elettorale nei mesi scorsi dicendo che noi non avremmo speso non avremmo raggiunto il cosiddetto N più 3 sulle risorse europee tutti i target raggiunti non dico che diciamo abbiamo fatto tutto ma neanche che si rappresenta questi cinque anni come non è così Tavani ma per chiarezza nei confronti anche di chi ci ascolta i dati che ho citato sono dati Istat e non sono dati di Tavani che questa regione sia una regione che ha una decrescita maggiore rispetto al territorio nazionale è un dato Istat che peraltro la nazione è stata amministrata dal partito di Silvio Paolucci non da quello di Antonio Tavani è un altro dato non Istat ma reale quindi insomma io sarei un po' più cauto a dire che stiamo inventando dati noi parliamo con gli imprenditori noi parliamo con i 30.000 artigiani che in Abruzzo si sono visti sfilare annullare lo sportello artigiancassa come se 30.000 artigiani che sono voglio buttarla lì 100.000 persone che vivono del proprio lavoro compresi i familiari non contassero nulla per questo governo regionale e questo governo regionale ha come dire destituito un ufficio che era in regione Abruzzo dal 1952 sono questi i dati su cui ci vogliamo confrontare poi dicevate prima che Legnini vuole fare delle leggi in cui a fianco c'è la colonia dei posti di lavoro ma mi sorprende questa scarsa conoscenza dello strumento legislativo perché in quasi tutte le leggi di finanziamento di aiuto di contribuzione di sostenimento delle imprese c'è il dato l'incremento occupazionale o addirittura il dato di salvaguardia occupazionale posso parlare della legge 77 del 2000 che è quella sul turismo perché mi riguarda più direttamente è una legge in cui uno dei valori premianti è il numero di posti di lavoro mantenuti o creati quindi voglio dire il lavoro non si crea per legge il lavoro si crea con le opportunità con le infrastrutture anche questa della Val di Sangro abbiate pazienza io ci abito in Val di Sangro sono anche stanco di sentire che in ogni campagna elettorale questa strada sarà terminata forse questa sarà la volta buona ma sicuramente non è merito di Luciano D'Alfonso perché non ci sono nuove risorse aggiuntive il master plan mette insieme tutte le risorse per ridistribuirle in una certa maniera avete parlato di bolle e di eccellenze affare a San Martino insomma faccio una piccola parentesi personale ma si produce un miliardo di pill all'anno in quel master plan la Pede Montana che la provincia di Tavani e Giorgio di Clemente ha reso cantierabile 8 km di strada da Guardiagrele a Casoli che sono una risposta non solo al polo agroalimentare di eccellenza di Fara San Martino ma a tutta la Val di Sangro perché poi si va a interconnettere nel secondo lotto proprio con la 652 quella che va in Molise allora nel master plan non c'è traccia della Pede Montana progetto cantierabile di cui sono stati pubblicati gli espropri sulla stampa nazionale progetto che la provincia di Chieti ha pagato con i suoi fondi risolvendo peraltro un vecchio contenzioso che durava dal 2001 quando Mauro Febbo la mise per la prima volta nel piano triennale della viabilità provinciale e poi scusate e chiudo ma come si fa a dire che la regione o il PD non c'entrano con il problema della viabilità la riforma del Rio dalla quale dipendono tutte le tragedie sulla strada mai confermata nel referendum di qualche anno fa ha cancellato le province dicendo di riattribuire le competenze ad altri a un livello diverso che era quello comunale o che era quello regionale e chiudo il gettio del bollo delle autovetture e degli automezzi non lo incassa nella provincia nello Stato lo incassa la regione Abruzzo Palumbo sul tema appunto della viabilità e anche della sostenibilità occupazionale che è stato in qualche modo ripetuto nei precedenti interventi bene sono state fatte diciamo degli accertamenti diagnostici la diagnosi è stata fatta scusate la deriva medica adesso c'è bisogno della terapia la terapia io penso che è ascoltare ciò che succede nel territorio io penso che a prescindere il lavoro che stanno facendo anche gli altri candidati Presidenti di questa tornata elettorale il candidato Lignini ha posto un nuovo modo di approcciare questi problemi molti me compreso hanno così si sono sentiti coinvolti hanno dato la loro adesione perché c'è un nuovo modo di approcciare queste questioni e questo è l'augurio che noi ci facciamo per noi ma in modo particolare per la cittadinanza bruzzese c'è un bisogno di attenzione sul territorio bisogna vedere bisogna fare un censimento bisogna secondo me fare un nuovo progetto Marshall vedere che cosa c'è in Abruzzo da sistemare ce ne sta tanto vediamo la situazione dei paesi da ricostruire per il terremoto vediamo l'entroterra che è fra virgolette ha necessità di essere sotto il punto di vista della salute ma anche sotto il punto di vista del lavoro essere aiutata qui bisogna trovare soluzioni che qualora a livello centrale soluzioni non arrivassero bisogna trovare scappatoie che possano darci dei risultati ecco per esempio già qualcosa si comincia a vedere l'aeroporto è diventato un punto importante a parte quello che diceva prima il collega di Clemente che vede degli aeroporti e degli aerei semivuoti mi congratulo per la vista perché è importante attenzionare questi arrivi però c'è il fatto stesso che ci siano più compagnie che vogliono avere lo scalo a pescare c'è un maggiore attività specialmente con i paesi dell'area balcanica è importante c'è questo via vai c'è un sentire ora adesso bisogna cercare di tradurre i parchi bisogna ridare vitalità ai parchi per esempio ci sarebbe la possibilità di poter dare lavoro per poter sui parchi che sono attualmente un po' stati abbandonati c'è il problema sicuramente di rivitalizzare diciamo tutto ciò che è legato all'alpinismo sciistico e quant'altro ai trekking da poter sviluppare a quello che è l'attività museale sia ecclesiastica ma l'attività museale laica e qui bisogna fare molto mancano guide ecco come è stato detto prima sono state ovviamente magari un po' lasciate da sola quelle che erano le strutture che devono fare formazione in questa regione quindi dobbiamo lì ridare impulso perché è quello il futuro il rispetto dell'ambiente il rispetto il discorso legato ai rifiuti alla gestione dei rifiuti c'è tanto da fare avendo per come obiettivo quello del rispetto dell'ambiente che è fondamentale anche per i problemi di salute abbiamo ancora la riscarica di bussi che dobbiamo vedere come risolvere quello è veramente uno dei primi obiettivi che la prossima giunta deve avere fra le sue priorità è la cosa da risolvere il più presto possibile perché è problematica e perché per la salute potrebbe dare grossi grossi problemi grazie 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 di Clemente abbiamo l'ultimo giro che però vi prego di contenere un po' nel tempo perché abbiamo rubato un po' nei precedenti in un paio di minuti diciamo solitamente si fanno gli appelli alla fine ma soprattutto vi chiedo insomma qual è la vostra sensazione su questa prima settimana vera di campagna elettorale che insomma ci è voluto un po' di tempo anche per le questioni climatiche in qualche modo per organizzare le liste e tutto però adesso siete in corsa quali sono le vostre sensazioni sui toni e sui temi di questa campagna elettorale perché ovviamente decidere di votare per voi e per le vostre liste di Clemente si purtroppo come dicevi prima i due minuti non bastano sono pochi ma cercherò di non perderli perché votare azione politica per il motivo che dicevo prima perché abbiamo veramente tanta voglia di fare tanta voglia di dare alla regione Abruzzo un modo diverso di essere governato e questo può essere possibile con la nostra presenza di uomini e donne volenterose e capaci di fare in giro si sentono tante cose ma quello che più mi preoccupa quello che più mi fa male è la voglia del non voto e questo è un appello che io faccio a tutti quelli che la pensano così di riflettere e di decidere di andare a votare votare possibilmente ringrazio chi lo fa e chi non lo fa che scegliesse sempre sulla stessa linea azione politica perché il centro-destra oggi può dare molto il presidente Marsiglio ha avuto modo di toccare con mano la sua mano sentire la sua voce sentire la sua grinda sentire il suo modo di fare e questo per me mi dà sicurezza e la stessa sicurezza voglio trasmettere ai cittadini abruzzesi noi possiamo fare molto possiamo fare molto ma per avere questa possibilità abbiamo bisogno dei voti quindi della forza degli elettori stessa io avrei tante altre cose da dire prima mi sono interrotto sull'agricoltura ma anche su altri temi noi abbiamo tanti argomenti per poter convincere il cittadino al voto ma ne dico solo uno quello che la forza c'è la volontà c'è quindi vogliamo essere noi quelli che insieme alla squadra tutta del centro-destra possa in qualche modo contribuire a dare un Abruzzo migliore un Abruzzo che oggi è stato troppo a dormire e in questo dormiveglia ha trovato solo dolore non soddisfazione e qui mi riferisco ai cari terremotati e ora veramente di dare loro un qualcosa di serio di sano di sicuro di dare tranquillità di ridare in quelle zone quella realtà di ieri e riportare il sorriso tra le gente il sorriso tra le città di Lanza questo lo auguro a tutti i cittadini d'Abruzzo e che veramente possa essere un quinquennio diverso di quello che purtroppo precedentemente abbiamo trascorso Silvio Paolucci qual è la sua lettura dei toni e dei temi di questa prima settimana di campagna elettorale vera in Abruzzo ma intanto io voglio fare una precisazione non c'entra niente la legge del Rio con la viabilità la legge del Rio di disegna le funzioni e dice che la funzione delle edilizie della viabilità sono le province il lavoro eccetera sono della regione e altro quello che c'entra è la legge finanziaria che mette i soldi sulle funzioni è un'altra cosa per cui Salvini e Di Maio mettessero i soldi se hanno il problema della viabilità qui e in altra parte d'Italia non è che si può appiccicare al tema del Rio sono otto mesi che governano devono affrontare i problemi basta pane e nutella slogan e semplicemente aggettivi di odio verso gli avversari dovete risolvere i problemi mettere i soldi sulla viabilità come altri governi hanno fatto per esempio per l'edilizia e io su questo proprio allacciandomi a questo il tema vero di questa campagna elettorale è scegliere i temi dell'Abruzzo e non gli accordi di Roma e non le cene romane e non l'attesa che quattro persone si vedessero a Roma e scegliessero il presidente degli abruzzesi sceso da Roma o altri che invece sono arrivati secondo le loro primarie hanno fatto un accordo e sono diventati candidati ma scegliete l'Abruzzo e io penso che il tema della campagna elettorale si stia caratterizzando su questo io penso che noi mettiamo insieme la migliore squadra possibile tenuto conto che intanto è il candidato presidente di questa regione Giovanni Legnini che dà ampie garanzie di competenza e autovorelezza di storia personale di relazioni tali da mettere insieme non solo una squadra ma trovare le risposte più utili nel rapporto anche tra il governo regionale e anche il governo nazionale soprattutto le strutture burocratiche dove le risorse si tornano e si prendono e si portano a casa questo è il punto principale io quello che sto registrando in questi giorni è che la scelta della regione da un lato la si sta provando ad inquinare provando a dire qui si votano leader nazionali dall'altra invece al contrario da parte nostra la si sta ribaltando dicendo si sceglie l'Abruzzo si scelgono gli abruzzesi e si scelgono donne uomini abruzzesi che hanno desiderio di mettersi in prima linea a partire dai 162 sindaci che hanno firmato un appello non a caso al personaggio più importante che l'Abruzzo in questi anni ha espresso Antonio Tavani ma registro che evidentemente l'agitazione nel PD è altissima rispetto ai sondaggi che pure loro conoscono e si tenta di come dire anche fra virgolette offendere se mi passate il termine le centinaia le decine di candidati che stanno correndo con Marco Marsilio votare Marco Marsilio significa votare una persona per bene una persona che garantirà una visione unitaria regionale e che ci aiuterà anche a superare i campanili Chieti Pescara L'Aquila Teramo che troppe volte sono state ostacolo allo sviluppo della regione e non invece opportunità sento parlare di cene io invece vorrei ricordare che votare Marco Marsilio e Fratelli d'Italia che è una lista con sette amministratori su otto candidati amministratori comunali su otto candidati significa votare una squadra di governo legata al territorio e che mette tutte le competenze delle liste a disposizione del progetto di Marco Marsilio presidente e non riporta l'uomo solo al comando io ricordo che Marco Marsilio abruzzese si è dimesso da senatore per tornare a vivere questa sfida in Abruzzo Giovanni Legnini dopo cinque mesi al tavolo della ricostruzione è andato ad occupare ha lasciato a Aquila gli abruzzesi i terremotati e la ricostruzione per andare ad occupare un più sicuramente autorevole e meritato posto al CSM non vedo quale salvezza possa portare un uomo che ha già abbandonato una volta l'Abruzzo che è stato sindaco come me non vedo tante altre esperienze amministrative nella vita di Giovanni Legnini che oggi mette insieme i pezzi di una classe dirigente del PD che è tutta schierata nelle liste di Giovanni Legnini quindi nessuna discontinuità ma totale continuità con Luciano D'Alfonso noi vogliamo evitare questo con Marco Marsilio e vogliamo anche evitare che gli improvvisatori delle soluzioni quelli del 5 Stelle vadano al governo della regione Abruzzo grazie perciò bisogna votare Marco Marsilio e Fratelli d'Italia grazie Walter Palumbo avanti Abruzzo perché votare avanti Abruzzo nel rispetto di quelle che sono ovviamente le posizioni degli altri candidati presidenti noi ovviamente siamo stati così ben volentieri abbiamo aderito ben volentieri a quella che era la proposta del candidato presidente Giovanni Legnini abbiamo visto nella sua proposta un qualcosa di innovativo un qualcosa che ecco cambi le regole del gioco che ecco apra all'ascolto di quelle che sono le esigenze dei cittadini abruzzesi ma anche i loro diciamo bisogni più bisogni basilari bisogni della salute abbiamo detto che c'è tanto ancora da fare teniamo conto che aver raggiunto i livelli di assistenza con quel punteggio che poi significano anche ritorno di alcune premialità per cercare di migliorare ancora di più la sanità il problema dell'attenzione verso il territorio noi abbiamo necessità di rivedere le infrastrutture non è possibile che e qui ci sta scritto tutto come poter abbreviare i percorsi fra la nostra regione e Roma fra la nostra regione e il nord d'Italia e quindi ci sono tutte quelle soluzioni tutte quelle possibilità che diciamo hanno spinto noi ad aderire volentieri alla così alla coalizione del candidato Giovanni Legnini e quindi ci auguriamo che le nostre proposte perché è su questo che si basa una buona campagna elettorale e non voglio dire che le altre proposte portate dagli altri candidati presidenti non siano buone ma la nostra sicuramente è diciamo più calibrata su alcuni punti fondamentali bene grazie Walter Palumbo grazie anche agli altri candidati si chiude qui la nostra prima tribuna elettorale dedicata alle liste domani sera avremo il primo confronto tra i candidati alla presidenza della regione alle ore 21 su rete 8 lunedì alle ore 20 e 30 altri esponenti invece delle liste in corsa per le regionali grazie ancora buonasera arrivederci grazie